Elettronica Service, sistemi di sicurezza, antifurti e videosorveglianza. Viene a trovarci in Corso Mazzini 258 a Cava dei Tirreni nei pressi dello stadio comunale. Inaugurato ieri pomeriggio il campetto polivalente di Marina di Vietri. La struttura sarà fruibile con tariffe agevolate per i residenti e avrà la doppia funzione di campo da calcio e da tennis. Un luogo di aggregazione dove poter allenare il corpo e la mente. Io credo che mantenere insieme un gruppo di bambini o anche di adolescenti è un fatto estremamente positivo perché evita la possibilità di andare in altre vie. Altre vie che poi alla fine sono sempre dei vicoli ciechi. Ma questo è forse uno dei motivi per i quali Vietri la possiamo ancora considerare un'oasi sotto l'aspetto della microcriminalità, un'oasi sotto l'aspetto delinquenziale è il fatto che i ragazzi, i bambini, gli adolescenti crescono in una maniera sana, crescono con una educazione verso il bello, crescono con una educazione verso il buono. I centri educativi sono sempre te, la famiglia, la parrocchia e la scuola. Se analizziamo quello che sta succedendo c'è bisogno proprio di sopperire ad alcune deficienze. Se riteniamo che sotto certi aspetti la famiglia ormai è fallimentare, la parrocchia funziona fino a un certo punto, la scuola è stata messa nelle condizioni di non poter funzionare, Ovviamente l'istituzione comunale deve sopperire a questa situazione contingente, speriamo contingente, per cercare di mantenere uniti il gruppo di bambini entro una certa fascia. Significativa la consegna da parte del consigliere comunale delegato allo sport Vincenzo Alfano al presidente della Vietri Sviluppo Giovanni Di Mauro di un defibrillatore salvavita. Era già mia intenzione dotare il campo sportivo e questo campetto di un defibrillatore e quindi stasera ho consegnato al presidente della Vietri Sviluppo Giovanni Di Mauro che è affidatario del campo sportivo grande Pietreventre è un affidamento provvisorio finché si espleta la gara per l'affidamento a qualche società sportiva di un defibrillatore. Per la salute dei bambini non si guardano i soldi, il costo del defibrillatore né altre cose. Io ho fatto l'augurio al presidente Giovanni Di Mauro di non usarlo mai, però è meglio averlo che non averlo perché se si può salvare la vita di qualcuno è giusto che venga fatto. Io ho fatto fare come comune un corso a 14 persone, hanno preso il brevetto per usare il defibrillatore, tra cui ci sono i vigili, ci sono l'ausiliare, c'è il custode del campo sportivo e ho preteso che due persone per ogni società sportiva che operano sul territorio di prendere questo brevetto e abbiamo fatto questo corso con la Croce Rossa. Al taglio del nastro, oltre all'amministrazione ben in casa, anche le vecchie glorie del calciovietrese e la special guest dell'evento, il capitano della Salernitana, Raffaele Schiavi. Ho mangiato con alcuni cadeau in ceramica dal club dei sostenitori della Salernitana, sempre in prima linea, per iniziative sportive, soprattutto dedicate ai più piccoli. Che cosa significa per un giovane, per un bambino a cui piace giocare a calcio? Che cosa significa avere un campetto? Credo che sia una cosa bellissima, spettacolare, anche perché ai miei tempi, dico la verità, strutture del genere non esistevano. Io ho giocato sempre in mezzo alla strada, quindi, vabbè, oramai siamo nel 2018, quindi la tecnologia è avanzata. Per i bambini una struttura del genere vuol dire tanto, sia a livello di crescita umano che a livello di educazione, quindi spero che soprattutto al sud ci sia questa conoscenza, che magari all'epoca non c'era, però sono contento che pian piano, pure in costiera amalfitana, stanno nascendo molte di queste strutture. Quindi speriamo che in futuro ci sia la possibilità per questi bambini di arrivare a livelli alti, perché comunque è il loro sogno. Però do sempre un consiglio, prima di pensare alla scuola, perché non tutti arrivano, diciamo, a quei livelli alti. Però già avere una struttura del genere qui a Vietri, sul mare, credo che sia una cosa bellissima. È stata un'occasione per rincontrarci con amici, alcuni diventati calciatori, altri no, però è stato un modo per ritrovarci e ristabilire quelli che sono i valori, un po', che quando c'è un campetto c'è un ritrovo, c'è amicizia, ci stanno un sacco di bambini, c'è allegria, per cui voglio dire abbiamo ripercosso in un attimo i nostri 40 anni fa. Benvengano tanti di questi campetti, perché laddove c'è sport vi posso assicurare anche con la mia esperienza personale, ma vi dico anche di altri che si sono salvati nella vita grazie allo sport. Io sono uno di quelli, per cui voglio dire, agognavo e agogno sempre laddove ci sono campetti da costruire e da inaugurare. Grazie.